Ascoltate a me per favore, andiamo a passo lento, lento, ok? Piano, passo lento, piano. Piano, passo lento, passo lento, passo lento, passo lento. Piano, passo lento, passo lento. Piano, 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 passo lento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 statisticale. Grazie. No, virgine. giudizio di Grazie a tutti. 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 Oggi c'è l'Ogliastra Unita, 23 comuni, tutti insieme alla stessa ora che accendono delle luci. Non ci sono parti, non ci sono fazioni, solo l'Ogliastra Unita. Ed è un grande obiettivo questo che stiamo raggiungendo, grazie alla gente che oggi si è mobilitata, grazie a tutti voi. Io vorrei chiudere solo, tutti insieme con un grande applauso e qualcuno lo sentirà. Seguiranno, grazie a tutti. verso chi oggi deve prendere, grazie a tutti, come si dice in gergo moderno, rimaniamo uniti e tutti, come si dice in gergo moderno, sintonizzati, perché la battaglia, perché la questione Ogliastra non si chiuderà, non si chiuderà fin quando non otterremo quello che questa gente in 23 comuni di Ogliastra oggi sta chiedendo. Buona serata a tutti, grazie. 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 Grazie.